Abramo non solo è il nostro padre nella fede, ma lo è anche nella speranza. Lo ha ricordato Papa Francesco rivolgendosi ai fedeli convenuti in piazza San Pietro per l'udienza generale. Proseguendo il ciclo di catechesi dedicate alla speranza cristiana, il Pontefice ha rimarcato che c'è un legame strettissimo tra fede e speranza e che il Signore mantiene sempre la parola data, anche quando tutto sembra impossibile. La nostra speranza non si regge su ragionamenti, previsioni e rassicurazioni umane, ha detto, e si manifesta là dove non c'è più speranza, dove non c'è più niente in cui sperare, proprio come avvenne per Abramo di fronte alla sua morte imminente e alla sterilità della moglie Sara. Mi piacerebbe farvi una domanda. Noi, tutti noi, siamo convinti di questo. Siamo convinti che Dio ci vuole bene e che tutto quello che ci ha promesso è disposto a portarlo a compimento. Ma, Padre, quanto dobbiamo pagare per questo? C'è un prezzo. Aprire il cuore. Aprite i vostri cuori. E questa forza di Dio porterà avanti e farà cose miracolose. E vi insegnerà cosa sia la speranza. Questo è l'unico prezzo. Aprire il cuore alla fede e Lui farà il resto. Grazie. 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 Grazie.